Sono ancora giorni non semplici, come evidente stiamo ancora dentro il pieno di una pandemia che vede numeri crescenti in tutti i Paesi europei e anche se leggermente più bassi, numeri importanti in crescita anche nel nostro Paese. Non c'è alcun dubbio che ancora in queste ore dovremo investire con ogni energia sulla vera leva che abbiamo, cioè la campagna di vaccinazione. I numeri degli ultimi giorni sono numeri molto incoraggianti, c'è una crescita importante delle terze dosi, c'è una crescita anche delle prime dosi, a riprova che le misure che abbiamo stabilito stanno dando un ulteriore impulso importante alla campagna di vaccinazione. E però dentro questa fase dobbiamo al tempo stesso, mentre combattiamo contro il Covid, costruire, pensare e iniziare davvero a mettere a terra la sanità del futuro. E il PNRR serve esattamente per questo. Il PNRR mette a disposizione risorse senza precedenti. Noi stiamo lavorando per alzare le risorse ordinarie che il nostro Paese investe sul Servizio Sanitario Nazionale. Abbiamo un fondo sanitario che solo due anni fa segnava 114 miliardi e che nell'impegno di questa legge di bilancio arriva a 128 miliardi nel 2024. Non si era mai visto un salto così significativo in termini di risorse ordinarie, quelle a regime, strutturali. Con il PNRR abbiamo risorse ulteriori, risorse aggiuntive, straordinarie, che possono fare la differenza. Noi dobbiamo investirle bene, essere veloci e fare le scelte giuste. La casa come primo luogo di cura, la prossimità, le case di comunità, gli ospedali di comunità, l'investimento sul digitale, l'investimento sulla telemedicina, l'investimento sulla nostra edilizia, sulla modernamento tecnologico, l'investimento sulla formazione, l'idea di una messa a sistema tra il sistema di sorveglianza ambientale e quello sanitario. Sono queste le scelte essenziali di una misura che può aiutarci davvero a costruire la sanità del futuro. E noi stiamo lavorando in queste ore, a stretto contatto naturalmente con le regioni, per essere all'altezza di una sfida importante, cioè la sfida di cambiare il servizio sanitario nazionale. Dobbiamo trasformare la crisi in un'opportunità. E io penso che ci siano le condizioni per farlo. Noi siamo in queste ore al lavoro, siamo fiduciosi di poter rispettare tutte le scadenze, se possibile anche essere in anticipo rispetto alle scadenze, come stiamo provando a fare, perché davvero questa è un'occasione senza precedenti, per costruire un servizio sanitario più forte e dare anche così il segnale che abbiamo fin in fondo messo a valore la lezione di questi mesi difficili. E io penso che la lezione sia semplice e chiara e ci dica che le risorse che si mettono sulla sanità non sono semplice spesa pubblica, ma sono il più grande investimento sulla qualità della vita delle persone. E allora dobbiamo spenderle, spenderle bene e costruire davvero un servizio sanitario nazionale migliore. Grazie e buon lavoro.